Il Signore sia con voi, Dio Padre Onnipotente Buono, che tanto ci hai amato per inviare a noi il tuo unico Figlio come Salvatore. Ora nuovamente ti preghiamo, benedici questi tuoi figli e queste tue figlie che impegnano il loro tempo e i loro giorni a servizio e in soccorso del prossimo e del bisogno. Dona loro la salute, la pace e la gioia, accompagnali sempre con la certezza del tuo amore che salva, ricompensa e proteggi. Benedici loro e questi strumenti che li accompagnano. Per Cristo nostro Signore, che il Signore sia con voi, che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda e rimanga sempre. Amen.